Buongiorno a tutti, mercoledì 31 maggio, ultima seduta del mese, mese almeno sui mercati europei, piuttosto complicato perché è mancata una vera e propria direzionalità, al contrario nel mercato statunitense, soprattutto Nasdaq, ma in parte anche Standard & Poor's, hanno dato dei segnali confortanti, è rimasto al palo solo il Dow Jones, oltre naturalmente a Russell e semmai andrebbe veramente forse rivisto il paniere, il calcolo del paniere perché ormai il mercato da diverse settimane lo stanno facendo solo le prime 5 o 6 società per capitalizzazione, tant'è che se togliessimo queste società dal paniere Standard & Poor's 500 avremo da inizio anno un guadagno di un 1-2%, però prima di iniziare, anche se c'è poco da ridere in questo mercato, perché anche oggi ci aspetta una seduta sicuramente molto impegnativa, cominciano anche a circolare delle difficoltà per questa ratifica del tetto sul debito negli Stati Uniti, ma il mio sorriso è perché ho scoperto questa mattina di essere un indovino, io amo molto la cultura latina, una volta c'erano gli aruspici e vi condivido subito lo schermo perché se vi ricordate ieri vi ho detto che ipotizzavo che Tecnoprobe avrebbe fatto la BBA 720 e stamattina ho visto che effettivamente ha fatto la BBA 720 e posso giurarvi sulle persone a me più care che ovviamente non avevo informazioni privilegiate perché altrimenti se le avessi avute sarei ovviamente andato short overnight sul titolo perché questa mattina magari guardiamolo subito per fare diciamo un'ipotesi anche di dove possa fermarsi, però il prezzo di ABB grosso modo dovrebbe raggiungerlo, magari siccome c'è un po' di speculazione sul titolo potrebbe fermarsi qualche tic sopra 724, se perde 724 la media mobile ha 200 e addirittura 690, però sappiamo che dalla chiusura di ieri sicuramente, ecco quantomeno mi aspetto un'apertura in gap down, ieri il minimo è stato 741 e mezzo, magari non apre diretto a 720, però secondo me apre almeno da 730 in giù, però monitorate ovviamente la situazione e non cambia assolutamente nulla nella mia giornata perché capire che un minimo di competenza dopo oltre vent'anni sui mercati finanziari l'ho diciamo accumulata, però sinceramente ieri bisogna essere onesti dopo la chiusura quasi sui massimi non era ovviamente prevedibile che ci potesse essere un ABB per il 4,4 per cento del capitale, abbiamo visto 25 milioni, 250 mila azioni, quindi la famiglia Crippa anche se non ne aveva bisogno passerà una bella estate. Torniamo agli indici e partiamo ovviamente dal Dow Jones, vedete tutto sommato ieri ribadisco quello che vi ho già detto, Candela Inside ha poi fatto una sorta di Hammer, dopo un minimo intraday a 32.893 a chiuso a 33.042, la direzionalità come vi ho già detto nel video serale l'avremo sopra 33.162 con target 33.316 media mobile a 50 oppure 33.341 media mobile a 100, sotto 32.795 meglio 32.772 media mobile a 200 avremo un target a 32.586, quindi diciamo che il Dow Jones oltre a essere l'indice principale, il Russell escluso ovviamente peggiore da inizio anno sta provando a muoversi in un trading range. Standard & Poor's 500, ieri come vi ho già detto è stata un'occasione mancata perché non ha confermato in chiusura la rottura dei massimi di periodo il famoso 4.213, ha chiuso a 4.205 ma la situazione tecnica è decisamente più positiva rispetto al Dow Jones, oggi dovesse tornare indietro perché poi lo vedremo tra poco, i futures non sono così positivi, positivi nel senso sono leggermente negativi, non sono diciamo per una prosecuzione del movimento ma anzi per un magari ritorno sotto la resistenza a livello chiave 4.156. Nasdaq, il Nasdaq in realtà il massimo di periodo l'aveva fatto nella seduta di venerdì a, perché ieri sono stati chiusi gli americani a 13.002, ieri è poi chiuso a 13.0017, per cui rimango dell'idea che il Nasdaq possa andare a target e il target è 13.181, ieri ha fatto 13.154. DAX, vi confermo quello che vi ho detto ieri, adesso è più probabile un ritorno sui supporti, il livello chiave è 15.726 e poco sotto c'è la media mobile a 50, 15.711, il CAC è in una situazione ancora più delicata, perché ieri ha perso la media, piuttosto nettamente, la media mobile a 100, 7.248 per cui sotto il minimo di ieri 7.195, avremo subito 7.125, poi 7.066, 7.039. Eurostox, anche qui temo che andrà a cercarsi i supporti, quindi 4.260, 4.251, 250 e sullo stesso livello c'è la media mobile a 100, il livello però più importante è 4.232, il minimo del 30 di marzo, sotto questo livello andremo subito, sul minimo del 29 di marzo a 4.168. Eurostox banks ieri ha dato purtroppo un segnale negativo, è uscito anche se di poco a ribasso dalla congestione che era partita l'8 di maggio, primo target 99.29, poi 98.73, quindi media mobile a 200, 97.28. Fuzzi Mib Futures ieri purtroppo, come vi ho già detto, ci aveva un po' illuso perché l'intraday era riuscito a superare le medie mobili a 50, 26.755, a 100, 26.785, ma poi è chiuso a 26.620. In questo caso è importante che ovviamente non venga perso il livello di 26.220. Oggi avremo il primo obiettivo che è il minimo di ieri 5.35, poi c'è questo 5.10, ma alla fine si va direttamente in area 26.3, poi a 26.220. È fondamentale che questo livello, ripeto, non venga perso per non tornare a 25.950. Passiamo adesso ai futures, vedete che sono purtroppo piuttosto negativi, per essere le 8 e i 12 del mattino, Dow meno 0.57, Standard & Poor's 500 meno 0.45, Nasdaq 100 meno 0.41, Russell 2000 meno 0.86, abbiamo già il DAX a meno 0.82, il CAC meno 0.79, se è giusto, però dovrebbe, poi magari confermate, ma non sono riuscito ad aprire sfera perché stamattina sono arrivato leggermente tardi in ufficio, meno 0.79, Eurostox meno 0.77, Nikkei meno 0.93, Topix meno 1.43, Hang Seng meno 1.23, Singapore meno 0.86, Cospi meno 0.56. C'è un discreto calendario macro, è uscito questo dato brutto sulla Cina, Indice di elettorio acquisti del settore manifatturiero per maggio 48.8 da 51.4, se poi scorriamo ci sono un mucchio di dati europei con il tema dell'inflazione, cominciamo con quella francese, tra circa mezz'ora, ma c'è anche il PIL in Francia, poi c'è alle 9.55 la variazione della disoccupazione in Germania, prevista in variazione di 14.000 unità, dato considerato sicuramente importante, poi abbiamo l'inflazione in Italia, alle 11, alle 12 in Portogallo, e come al solito viene data assoluta priorità all'inflazione in Germania per il mese di maggio, prevista più 0.6, uscirà alle 14, quell'annuale prevista a più 7.3, ci sono poi i dati canadesi sul PIL che comunque abbiamo visto che non fanno da market mover, e concludiamo con il dato più importante per gli USA che ha le 16 i nuovi lavori, JOLTS per il mese di aprile, previsti a 9.775.000. A livello di calendario economico abbiamo solo meglio questo, che però essendo in una situazione di grande difficoltà a livello tecnico, perché il titolo praticamente stagna in area di minimi storici, vedete che è molto molto vicino, anzi ieri in realtà in intraday ha fatto addirittura nuovi minimi storici, perché ha fatto 0.774, quindi sarà molto importante vedere cosa pubblicherà meglio questo. Devo parlarvi prima delle poche notizie regolamentate anche di Digital Value, perché vedete che ha vinto un appalto sul caudo per la pubblica amministrazione e questo avrà durata di 36 mesi e il valore è di 8 milioni di euro, ma ce n'è addirittura un altro da 31 milioni di euro, per cui dovrebbero essere due. Infatti questo è durato a 48 mesi, quello di prima è durato a 36 mesi, per cui abbiamo 31 più 8, 39 milioni per Digital Value, che comunque non sono pochi, vediamola graficamente, tra l'altro è su un'area di supporto piuttosto importante, parliamo di poco meno di 62, quindi vediamo se oggi reagisce a questi livelli, se dovesse reagire credo che un ritorno almeno fino alla media mobile a 50, 65.73 possa farlo e poi eventualmente fino in area 67, dubito con notizie price sensitive così importanti che possa rompere il livello chiave, che peraltro è poco più sotto perché area 60, vi ho messo un time frame settimanale, livello che non perde dall'ultima settimana di luglio del 2022. Velocemente, perché sono un po' in ritardo questa mattina, le poche notizie price sensitive, abbiamo Unicredit, la banca sta progressivamente riducendo la quota delle proprie masse di risparmio gestito, riconducibile al gigante francese Amundi, riferisce una fonte a conoscenza della vicenda. Qui era già uscito qualcosa ieri, si parlava anche di penale, per cui sinceramente bisogna fare molta attenzione, per oggi c'è già debolezza sul mercato, è probabile un ritest per Unicredit della media mobile a 50, 18,305, poi qui vedete che in sequenza abbiamo 18,25, 18,11, 18,10, quindi almeno fino a 18,10 io il titolo lo vedo. Poi c'è questo minimo del 4 di maggio che è 18,056, il punto di non ritorno per il breve periodo è ovviamente il minimo del 2 di maggio, 17,626. Poi viene riportata ancora la notizia che, vi avevo già detto ieri, della Juventus, per cui il Tribunale federale nazionale FIGC ha accettato la proposta di patteggiamento del club, infliggendo una sanzione pecuniare di 718.240 euro. L'accordo prevede la rinuncia all'impugnazione da parte della società al precedente giudizio che ha previsto una penalizzazione di 10 punti in classifica. Ieri sulla notizia, come vi ho già ricordato, ha fatto una spike rialzista, poi ha chiuso con una shooting star, purtroppo sotto le medie mobili principali a 0,304, rimane ancora da chiudere il gap lasciato aperto sul massimo di lunedì a 0,29,44. Concludiamo con Stellantis. La Francia ha inaugurato una Gigafactory per la produzione di batterie, la prima di quattro impianti di questo tipo, che alcune aziende europee e asiatiche intendono costruire nel nord del paese. Il progetto, sviluppato da Automotive Cell Company, joint venture tra Stellantis, Mercedes e Total Energy, prevede un investimento totale di 2 miliardi di euro, di cui quasi la metà a carico dello Stato francese e delle autorità locali. Ma allora, la notizia ovviamente non è male, però il titolo è in una situazione delicata, io sono in posizione in questo momento, sono in leggera perita perché ho poco sotto 15 il titolo. Primo livello importante, media mobile a 200, 14,558, poi abbiamo questo, 14,386, e il punto di non ritorno in questo caso è il minimo del 4 di maggio, 14,174. Per questo mattino concluso auguro a tutti buon trading e ci rivediamo dopo la chiusura del mercato diurno.